Hai forse perso tua nonna? Non è il massimo? Non è il massimo? Ciao, sono Olivia. Mamma ha scelto questo nome per fare dispetto alla nonna. Olivia, c'è una chiamata per te. L'ereditiera è arrivata. Sei la nipote di Alina Madej? Abbiamo perso così tanto tempo. Polizia! Raviolo! 25.000 slot al creditore il casale delle erbe. Devo lavorare. Trova una soluzione. Il posto dove Cuba coltiva le sue piante. Quella una volta era la terra dei tuoi anterati. E tua madre ha venduto la terra contro il suo volere. Alina! Olivia, tu le manchi, lo sai. E se vendesse la fattoria? Non ti azzardare a ripeterlo. Piccoline! Ila, tornate qui subito! Io gestisco la locanda e il mio figlio le piante aromatiche. Sono qui per suo figlio. Ho complicato le cose, ma per ora devi aiutarmi, ok? Non hai abbastanza soldi? Ne vuoi altri da Alina? Sì. Ho bisogno di te. Cuba! Non so proprio da dove cominciare. A volte fai qualcosa di brutto per averne un vantaggio. Vuoi anche voi, piccole... Alina! Non avresti potuto darle da bere una pozione d'amore. Mamma, mamma ostrregala. Będziesz zamap, zamap. Bianchi swoje zaplatała.